Siamo qui ad Verena, una cima bellissima a 1.650 metri di altezza. Sono qui con Petti una bravissima signora, una grande amica e una collezionista. Lei è la proprietaria di questa baita che poi vi presenta e certamente vorrà dirci qualcosa. Io sono Caterina, sono la proprietaria di Scele Grisly. Ma quanto bello è, quanto bello è! Questi stupendi quadri che da anni presenta ad Asiago e anche in giro. Grazie! In tv, a diritto. Andiamo, andiamo, andiamo. Qui siamo in un posto particolare. Quest'opera qui è stata premiata dalla medaglia allora del Presidente della Repubblica Italiana. Ed è qui che apre questo momento e questi momenti in cui ne parliamo. La Caterina forse, se la ricorda, perché è l'antica stazione ferroviaria di Asiago. Adesso andiamo sulla sua azienda. Vieni Caterina. Passiamo pure qua noi. Qui abbiamo la stazione di Campiello dove arriva il trenino, che aveva una maglia qui vicino. Colui si allarga pure, che vede anche le persone che ci sono. Andiamo? Come vedete siamo qui i franici. Ma che brava si è. Qui è un omaggio all'Andrea Palladio, al ponte di Bassano. È un po' storto ma insomma. La Chetti sicuramente lo vorrà dare a ridurre un pochino. Qui abbiamo una vecchia baita che è la vecchia casale dei Biscar, dove abita vicino anche Celentano. Saliamo su. Eccoci, è arrivata la Chalet Grizzly. Queste sono tutte le meravigliose opere di Gerry. Questa è la mia favolosa opera, la Chalet Grizzly. Il mio amato Grizzly. Oggi c'è un sole stupendo e una neve bellissima. Vi aspetto a tutti i suoi turisti. La Sola è la Sola. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.